Io per esempio ho detto abbiamo sbagliato sulle partite di stabilità, vero no? Però è passato un po' in sordina il fatto che per la prima volta c'è una legge di stabilità che taglia 18 miliardi di tasse in Italia. Mai accaduto prima. Pronto alla scommessa con voi. Per la prima volta c'è un taglio di tasse e ve lo ricorderete quanti di voi avevano dei dubbi sul fatto che si confermasse il bonus, che si tagliasse l'IRAP eccetera. Quindi gli obiettivi sono stati raggiunti.